Eccoci qui per una nuova edizione di Chuck Jr. Vorrei ricordare ai pochi che non lo sanno che cos'è Chuck Jr. È un programma di corti ideato dai ragazzi di tutto il mondo. Lo sapevo, lo sapevo ed è per questo che noi siamo ad Ancora. Per incontrare gli autori di uno dei soggetti più interessanti. Tu pensavi che io non lo sapessi? Io mi occupo della regia del corto. Io mi occupo del backstage. Eh sì? Va bene. Appuntamento al Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Lo sapevo benissimo. Andiamo e noi ci vediamo. Oh senti, ci vediamo, devo dirlo io da solo. E noi ci vediamo. Francesco, abbiamo già scelto gli attori? Ma se non abbiamo ancora conosciuto i ragazzi. E allora come facciamo? Estraiamo i nomi dei protagonisti a sorte. Siamo pronti per cominciare? Sì! Allora cominciamo. Francesco. Allora, ho messo i nomi di tutte le ragazze qui dentro. Estraiamo le quattro protagoniste. Siete pronti? Sì! Vado? Sbagliamola prima. Allora, mi chiediamo chi sarà. Allora, vado? Sì! Leggi tu, volevo io. Leggi tu. Allora, Letizia! Letizia! Ed è? Suami! Terza estrazione per... Difficilissimo. Banusha! Ultimo estratto per... Quattro protagonista. Sarà, la farà... Amina! Ciak! Ciao, io sono Claudio ed oggi vi guiderò in una nuova puntata di Ciak Junior da Ancona. La mia classe l'avete già vista. Ora andiamo a conoscere le quattro protagoniste. E ora conosciamo la troupe di Ciak Junior. Sergio Francesco Paolo Antonio Mattia Ed Enrico Ciak Ma dove è andato Claudio? Doveva essere qui con Sergio. Eccoti finalmente! Dai Claudio, sbrigati! Ciao Sergio, è tutto pronto per il primo Ciak? Claudio, è tutto pronto ma tu sai che il primo Ciak non è la prima scena del film, eh? Perché? Perché noi non giriamo le scene uno, due, tre, quattro, cinque ma secondo il posto dove ci troviamo. E come? Come? Te lo faccio vedere. Tu dirai motore lui dirà partito azione e poi vediamo le scene, d'accordo? Vai! Motore Partito Azione Che te ne pare? Bella Bella, bella, bella E ora è il momento di parlarvi del tema del nostro film il riciclo e lo faremo in modo strano ma di questo parleremo dopo riciclo significa dare nuova vita a materiali di scarto e di rifiuto si può riutilizzare la plastica ottenendo panchine, orologi, pile con il vetro si possono realizzare altri contenitori in vetro con la carta, altra carta scommetto che non sai cosa si può fare riciclando otto cettolattine di alluminio chissà cosa avrà in mente Ciak e ora la sinossi del film montaggio veloce, anzi velocissimo, mi raccomando sarà fatto Sergio siamo in Ancona Martina è una ragazza davvero simpatica il suo primo interesse è il rispetto per la natura Jennifer è una ragazza molto meno simpatica il suo unico interesse è essere sempre l'ultima moda è chiaro, Martina e Jennifer sono molto diverse e quindi non vanno per niente d'accordo un giorno la prof entra in classe e propone di partecipare a un concorso sul tema del riciclo serve una buona idea Matilda propone di realizzare una sfilata di moda ma attenti utilizzando vestiti fatti solo con materiali di riciclo in classe sono entusiasti a tutti piace la proposta di Matilda a tutti meno che a Jennifer che infatti decide di boicottare la sfilata di moda secondo voi chi avrà la meglio Matilda o Jennifer? sono ancora io per saperlo guardate il nostro film ciak con l'aiuto dei miei compagni di classe e vorrei parlarvi un po' della nostra città Ancona sapete perché si chiama così? perché sordi in un pronuntario a forma di gomito che in greco si dice Anco Rim, cosa abbiamo noi alle nostre spalle? ma dai questo è il fuorio romano Francesca che cosa mi dici del Duomo? è una bellissima chiesa medievale dedicata al San Sirico Samuele ma cosa stai facendo? te lo dico se mi dai un'altra e adesso guarda l'alco del Triano il monumento più antico di Ancona ciao Giulia ma mi sono sempre chiesto perché questa chiesa si chiama San Francesco alle scale? ah grazie ora è tutto più chiaro e questa cos'è? questa è la fontana delle 13 cannelle ah quella che si dà la fontana a Berraia ad Ancona ritornerai giusto il giro per Ancona finisce qui al Museo Archeologico Nazionale delle Marche dove stiamo girando il nostro film sai che faccio? vado a ringraziare la direttrice del museo per averci concesso questo posto bellissimo per girare il nostro film innanzitutto voglio ringraziarla per l'ospitalità ma cosa possiamo far vedere ai nostri amici a casa? la statuetta della Venere di Frasassi che è una piccola statuina che è stata realizzata da una salattite e poi le corone d'oro di Montefortino d'Arcevia che vengono da una necropoli molto importante celtica di Galli Senoni e poi infine il bellissimo salone di Pellegrino Tibaldi con gli affreschi e poi le vetrine che contengono la ceramica attica che proviene dalla necropoli Picena di Numana Sirolo grazie mille e ciao ma si può dire c'è un direttore? andiamo da Sergio e vediamo a che punto sono le riprese motore partito azione un cos'ho? una foglia ah lo so e riconoscerei la tua voce tra mille grazie madrina saura natura preferisco essere chiamata natura stop secondo Claudio aspettare qui alla stazione di Ancona le ragazze di Modena che ci daranno una mano a girare la sfilata è un compito del produttore e quindi io eseguo pronto? le vado ad aspettare andiamo siamo in ritardo venite dai 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 fermo scusa per il ritardo Francesco stavo presentando la rubrica le ragazze di Modena sono arrivate e ti stanno aspettando ok andiamo ecco le ragazze vai intanto grazie per aver accettato il nostro invito ma come vi è venuta in mente l'idea di creare degli abiti con materiali di riciclo? l'idea del riciclo è nata da un progetto europeo Erasmus Plus che si chiama Recycle User Mind e coinvolge 5 paesi europei e i materiali ci sono stati donati dalle aziende di Modena ok grazie permesso che materiali avete usato? abbiamo utilizzato la plastica, il neoprene, il sughero e il jersey ma scusa questo è jersey? no questo è plastica e il jersey è questo che è un materiale in maglia elastico ok grazie vorrei presentarvi delle ricette anche onetane i moscioli alla marinara e i sardoncini scottadito andiamo in cucina per i sardoncini servono i sardoncini il pane grattugiato prezzemolo, aglio olio extravergine sale e pepe si passano i sardoncini sul pane grattugiato già condito e poi si scottano sulla griglia moscioli alla marinara si puliscono i moscioli poi si mettono in padella mi raccomando bisogna mettere aglio, olio, sale e pepe, vino verdicchio e prezzemolo si cucinano per 5-6 minuti poi quando si aprono sono pronti da mangiare ma da ancora ci sono altre mille specialità come bombetti in porchetta ma di questi ne parleremo la prossima volta ciao Sergio dimmi facciamo una pausa? una pausa ora? abbiamo 60 scene da fare ti sembra questo il momento di fare una pausa? dai una piccola pausa ti ho detto no ti dico no e ti ripeto no non possiamo fare la pausa peccato Francesca aveva fatto i bignet i bignet? tieni è il clou del film l'hai già dimenticato? no volevo solo vedere se tu eri attento cosa stai girando? presumo la sfilata di moda sto girando appunto la sfilata di moda ma come farai? come faccio? facendo le modelle che sono qua salgono là in fondo e poi scendono queste scale e quando arrivano qui davanti fanno il giro come fanno le modelle sai fare? facciamo le mie capito? si e adesso che si fa? andiamo a girare ma certo andiamo a girare dai sentiamo adesso che cosa ci raccontano i ragazzi sul tema del loro film secondo me è importante riciclare perché così si possono utilizzare gli oggetti che sono stati utilizzati prima e dargli nuova vita perché se no noi saremmo sommersi dai rifiuti per esempio se ricicliamo la carta possiamo salvare molti alberi riciclare per usare tutte le risorse di una cosa cioè non le cose che ci servono dopo buttarla ma tutte da ogni lato è diverso per creare meno rifiuti e quindi per inquinare meno l'ambiente cercare di utilizzare tutto quello che si può invece di buttarlo subito bisogna anche usare un po' di fantasia tipo noi come abbiamo fatto in questo film abbiamo usato molte cose varie tipo carta, cartone, plastica, bottiglie per fare vestiti bellissimi a scuola utilizzare tutte le pagine del quaderno avanti e dietro e ad esempio come i vestiti quando ci stanno piccoli e li possiamo donare ad altre famiglie è meglio andare a scuola d'estate così il riscaldamento non c'è e non dobbiamo sprecare il gas potremmo tenere di più anche il cellulare invece che cambiarlo molto spesso io per consumare meno avrei più cura delle mie cose ad esempio i miei vestiti in modo che non li devo buttare via e mi durino di più le varie cartacee delle merendine o di qualsiasi altra cosa vanno a finire nel mare e potrebbero soffocare anche la fauna e la flora che ci vive sono disposta a rinunciare alla comodità della mia macchina e utilizzare mezzi pubblici o andare a piedi o in bicicletta invece di usare panini, patatine e queste cose prendi una mela o una banana mia sorella per colpa del computer si è dovuta mettere gli occhiali perché gli girava la testa allora io consiglio di andare a fare le passeggiate invece di restare a casa guardando il monitor rinunciare alla televisione per andare a fare una passeggiata al mare non tenere sempre la luce accesa ma spenta così si consuma molto di meno per salvaguardare l'ambiente rinuncierei a tutto ma non alle lasagne riciclare tutto quello che si può e usare polte alternative per la casa tipo usare i pannelli sonari o le ventole eoliche rispettarla cioè per esempio io con i miei amici quando vediamo delle cartacee per terra le raccogliamo e le buttiamo via bisogna tenere pulito il mondo in cui viviamo io bevo l'acqua del rubinetto invece di andarla a comprare quando si taglia un albero per avere legna magari se ne possono piantare altri due nel posto dove hai tagliato quell'albero ragazzi vi assicuro è l'ultima ci credete? non ci credono la sfilata è stata un successo complimenti e adesso per ricapitolare di che materiali sono fatti i vostri vestiti? di plastica e sughero questa è plastica e neoprene questa è plastica plastica neoprene li sta lì di plastica e il jersey? è questo ma chi è quello lì? è il mio amico raccoglie lattine ma non so per quale motivo motore azione questo è una chiappa sogni e io ho un sogno bravo ragazzi venite qua ragazzi qua devo dirvi una cosa molto importante il film è film dopo tre giorni di duro lavoro il film è finito ecco voi ladies and gentlemen Recycle Fashion che significa il reciclo della moda grazie a tutti